Incontriamo Giovanni Ruffoni nel famoso negozio di alimentari Ruffoni in piazza Malvezzi, che quest'anno compie 50 anni. Una gestione familiare, come è nata, chi ha cominciato e adesso chi c'è che le aiuta in questa meravigliosa attività. Ricordiamo naturalmente la famosa mortadella. Dunque io sono arrivato nel 1964, qua c'erano i signori Bertazzi, ho rilevato queste solumerie con tanto entusiasmo, allora i negozi qua c'erano 12 o 15 negozi di alimentari, sono rimasto l'unico e ho sempre cercato di portare prodotti di qualità e sono ancora in quadro dopo 50 anni di attività. La mortadella da sempre, ormai è il nostro cavallo di battaglia, vengono da tutte le parti, dalla Spagna, vengono, le tagliamo i pezzi, li mettiamo sotto vuoto, li incartiamo, ormai è una tradizione, quando arrivano vengono nel negozio la mortadella, perché è la mortadella di Ruffoni, la mortadella dei golosoni e la donna che vuole rimanere bella mangia sempre la mortadella. Mio figlio qua, mia moglie, mio figlio che è qua assieme, insomma lui è più adatto, va a comprare la merce, compra attività, altri tipi di lavoro, ecco, però qua in negozio io ci sono sempre. Progetti futuri, dunque avrei ancora 50 anni a fare, non so, sarò duro però. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi.